Lo sport azzurro fa sognare l'Italia in quest'estate un po' particolare, però un'estate in cui insomma vediamo che le cose stanno lentamente tornando a normalità. Benvenuto Fabio Fortuna, Rettore Onikusano. Buonasera, eccoci qui. Belle immagini. Infatti io volevo un commento da lei riguardo a queste 40 medaglie, anche le ultime parole che abbiamo ascoltato poco fa, l'intervista di Lia Capizzi, alle farfalle, all'energia positiva che hanno sentito, percepito che arrivava da tutti coloro che volevano vedere una medaglia da parte loro, perché è così e l'Italia è rimasta a guardare qui, quell'Italia che per anni ha fatto grandi sacrifici per portarsi a casa una vittoria, una medaglia. Guardi, da appassionato di sport, da italiano e anche da persona che ha praticato sport agonistico, lei può immaginare quali gioie io abbia vissuto in questi giorni. È un bel segnale per l'Italia, dopo gli europei abbiamo vissuto un'altra domenica straordinaria con l'atletica e siamo andati avanti fino a raggiungere un traguardo storico. E questo si inserisce in un contesto generale di ripresa, importante, importante a livello psicologico, ma potrebbe avere anche delle ripercussioni economiche, perché abbiamo visto con gli europei, molti si sono lanciati in previsione, il PIL grazie alle vittorie europee aumenterà dello 0,7%, 0,8%. Non si può stabilire un'entità precisa, ma sicuramente gli europei daranno beneficio anche in termini di produzione di PIL, ma anche questi successi olimpici, perché lo sport diventerà a vigore. Ecco, ma infatti qualche parallelismo c'è stato, andare veloce, l'Italia dovrebbe andare veloce, come l'abbiamo vista vincere, degli ori, non soltanto c'era dire che però sono arrivate anche le parole di Confindustria, degli studi che vedono l'indice di fiducia scendere un po' nel mese di agosto. Beh, il certo studio di Confindustria, sì, è un po' dissonante rispetto al quadro ottimistico, ma basato su un sano realismo che si è diffuso negli ultimi mesi, perché Confindustria ha detto che a lui o probabilmente la produzione industriale scenderà dello 0,7%, perché ci sono materie prime poco reperibili, componenti che non si hanno a disposizione, potrebbe esserci un leggero rallentamento e poi perché si temono restrizioni dovute alla recrudescenza della pandemia. Il tema comunque delle materie prime sta esplodendo in questo momento sempre di più, però lo stiamo trascinando da più di un anno. Lo stiamo trascinando perché diminuiscono le scorte, ovviamente, man mano che la produzione si intensifica, diminuiscono le scorte e c'è difficoltà. Però io sarei ottimista, non è detto che le cose andranno così, gli indici di fiducia Confindustria dice che potrebbero scendere agosto, ma sono saliti nell'ultimo mese a livelli che non avevamo dalla prima decada del 2000, quindi anche se scendono un po', io vedo ancora un quadro di grande ottimismo con un PIL che secondo me supererà il 6%, perché 5,8% ufficio parlamentare di bilancio, Draghi ha detto che supereremo ampiamente il 5%, tutte le previsioni convergono su una positività assolutamente non prevedibile qualche mese fa. Ecco, quando potremmo parlare di positività senza pensare a positivi e negativi, visto che è questo, stiamo un po' incentrando tutto sulla dualità in questo senso che riguarda il Covid-19. Da rettore di un'università online che tra l'altro immagino abbia cambiato un po' le cose in questo anno in mezzo di pandemia. Prima era una scelta particolare decidere di studiare online, adesso invece, almeno fino a qualche mese fa, era prassi Covid. Certo, devo dire che noi siamo stati avvantaggiati, ma le università convenzionali hanno reagito bene. Ci sono stati un po' i disagi, però i studenti universitari sono maggiorenni, sono cresciuti, quindi sicuramente hanno un problema minore nella didattica a distanza rispetto a coloro che frequentano le scuole secondarie di primo grado e secondo grado e soprattutto quelli che frequentano la primaria e la scuola dell'infanzia. Quindi ovviamente questo si è assorbito. Adesso c'è un ritorno alla presenza, proprio di qualche ora fa, una nota del Ministero dell'Università che invita nuovamente a dare priorità alle attività in presenza e quindi tutti li prenderemo con vigore. Naturalmente però, a differenza della scuola, vista l'età maggiore, gli studenti universitari dovranno essere dotati di green pass. Voglio dire una cosa però, che leggendo questa nota c'è una cosa ancora non evidente dal decreto che abbiamo visto, il controllo nell'università potrà essere effettuato a campione, quindi non su tutti gli studenti. Ogni università si potrà organizzare autonomamente nel pieno rispetto dell'autonomia dell'università che ormai esiste da molti anni. Infatti per concludere adesso, non per quanto riguarda l'università ma per quanto riguarda le altre scuole, abbiamo visto parlare e presidi e chiedere delle nuove assunzioni per i controlli per le scuole. Certo, lì il problema è gravoso, però diciamo anche nelle scuole i studenti non dovranno avere green pass, quindi il controllo dovrà essere effettuato nei confronti di docenti e personale amministrativo che peraltro sono soggetti a notevoli sanzioni, qui c'è molta polemica, se non hanno il green pass che arrivano alla sospensione dell'attribuzione dopo cinque giorni di assenza ritenuta ingiustificata. Nella scuola il problema è notevole perché si gira intorno ma ancora sui trasporti secondo me non siamo pronti o quantomeno non si delinea un quadro chiaro che ci consente di poter dire beh si riprenderà la scuola nella massima sicurezza perché all'esterno della scuola io ancora vedo dei problemi. Certamente stiamo migliorando, la campagna di vaccinazione va avanti, dobbiamo essere ottimisti e la scuola comunque deve riprendere, questo non c'è dubbio in presenza. Grazie Fabio Fortuna, rettore dell'Università Cusano, grazie per essere stato con noi a SkyTG24.